amici del canale ben ritrovati siamo di nuovo in spiaggia stasera facciamo qualche bancio un jig vediamo se si muove qualcosa speriamo bene mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao e di consueto sto provando questo jig che avrete già visto altre volte la raptor jig da 20 grammi bianco gialloflu una leggera presa da mare qualche lancio con il juglo wide 15 grammi ho visto la presenza di qualche aguglia per un po di nostalgia un needle che ormai conoscete e vediamo ciao ciao Grazie a tutti. La colorazione naturale 170 e vediamo. Tanto per provare con il simile Pop Queen della Maria invece questo è lo Yankee Pop della Raptor e vediamo. Eccolo, eccolo. L'ha provato, eh? Il famoso trick, c'è al suo, 2.10 bianco-rosa. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Allora amici, eccoci qua, Serracchiotto, primo Serracchiotto l'abbiamo fatto, gli ridiamo la libertà. Ciao. 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 Ciao.